Non ho sentito? Questa è l'iniziativa, ogni staffa del tutto. E su questo ci credo, ci credo tanto, perché il futuro è nostro. Non vogliamo, e penso che nessuno di noi vuole questa stazione dei bambini di Cernovi, dei bambini del Giappone. Quindi, se siamo persone civili, vogliamo felicità di essere nostra, domenica andremo tutti a votare i quattro stessi. Per noi provarci, il veneno è casa e l'acqua è l'esterno. Ogni staffa faremo con le mie mani, perché non sono un mito di segnale, però ci provo. Ogni staffa, grande, c'è un magliette. Queste magliette saranno messe a classe sul forum ufficiale di Marroni.net. E tutti i soldi che dall'ultimo centesimo, vi donerò alle associazioni per dare il conto di tumori. Quindi, sono un amico, per spiegare le questioni su di noi. Vivo un rato!